Ciao ragazzi! Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo Sapete dove? Siamo nelle backrooms Guardate Tutto backrooms Allora iniziamo Allora le backrooms è un labirinto Quindi sarà un labirinto È un labirinto Inizia ad essere un labirinto Sto posto Ma è grandissimo Posso spaccarlo? No Perché prima ero in creativo Ora sono in Oh! Vabbè ragazzi Ora dobbiamo un'altra parte Perché sto posto È gigante Ragazzi Ragazzi Sto posto è gigante Dirci una saluta troppo le cose Ragazzi Ma le backrooms Le backrooms Cioè Poi ci dovrebbe essere Il mosso delle backrooms Non c'è Non c'è Ok sono andato proprio alla fine Delle backrooms Già è finito il gioco Non è finito Ragazzi Dove siete Dove siete raga? No Qua è il posto dove non ci sono le luci Ma entriamo nel posto dove non ci sono le luci raga Entriamo Ok Che non mi sembra una buon'idea andare dove c'è il buio Non mi sembra una buonissima Perché sennò poi non vedo nunca Cavolo Ok To sto posto è gigantesco raga Aiutatemi Aiutatemi Ma voglio vedere Mi posso mettere In Creati No mi posso mettere in creati Perfetto Eh sì vabbè addirittura mi sono perso raga Mi sono perso Dov'è il posto dove c'è la luce raga? Dov'è il posto dove c'è la luce? Aspettate che metto così Così almeno magari ci vedete un po' meglio Spero che così ci vedete meglio Ok raga Cioè ma dov'è il posto dove ci Dov'è il posto dove Cosa è quella cosa? Ragazzi ho visto una cosa Ragazzi ho visto qualcosa L'avete visto pure voi? Che cos'era quella cosa? Ragazzi c'è una cosa che mi stai inseguendo dietro Ragazzi ragazzi che cos'è che cos'è Non voglio saperlo Non ci dobbiamo guardare dietro Se ci guardiamo dietro Possiamo Possiamo aprire la mappa No 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 Non mangiare Scappo 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 Per fortuna che Che si è fermato un minutino Non c'è più Non c'è più Ragazzi Ragazzi non c'è più Non c'è più Ok